E credo che adesso, devo dire, dopo 20 anni, sia arrivato a una giusta maturità, una giusta maturità. Quanto tempo sei con il tuo compagno? Ma io sono qui per fare domande a te, non tu a me. No, ma da qua, voglio più o meno di 20 anni. Io di più, 23. Allora, sei d'accordo che dopo 15-20 anni si arriva veramente ad un rapporto che è ancora più bello che quello che c'è stato all'inizio, che è un rapporto di maturità, di complicità, di fiducia, di amore, di amicizia e oggi sono arrivato a questo con Clotilde. Ma tu lo perdoneresti un tradimento? Io perdonerei un tradimento, sì, perdonerei un tradimento. Perdonerei un tradimento perché è un tradimento, scusa, perché penso che se c'è amore, che l'amore che c'è al di là di tutto questo è molto più forte che una scappatella, diciamo. Avete dovuto perdonarvi nella vita? Ma ci perdoniamo? Io chiedo perdono ogni giorno. Io chiedo perdono e grazie ogni giorno. L'ho detto che è una santa donna, io la voglio conoscere. Ma perdono per... Però senza di te. Grazie. 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 Grazie.